salve a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video in questo video vi faccio un speed build della cameretta di The Sims del piccolino della piccolina che sta per arrivare quindi la facciamo in modo molto neutro in questo video vi faccio un video per questo video vi faccio un video ci vediamo in un prossimo video ciao